Torri Orsaia è uno dei comuni più cardioprotetti della campagna, vanta infatti un defibrillatore ogni 125 abitanti. Da ieri a ricordarlo sono anche i pannelli inseriti nella pensilina che protegge uno dei defibrillatori presenti nella cittadina. Nella cartellonistica è riportata la mappa degli apparecchi presenti sul territorio comunale. Sono 16 in tutto tra Torri Orsaia e Casterruggero, un record in campagna ottenuto grazie alla forza e all'azione dell'associazione Carmine Speranza che ha trasformato il dolore in sorrisi e progetto di vita contribuendo a diffondere su tutto il territorio campano e oltre la conoscenza delle manovre salvavita e l'uso dei defibrillatori e adoperandosi inoltre perché divengano presto manovre da imparare a scuola in modo da essere patrimonio comune. A Torri Orsaia, dove ha sede e opera la Onlus, le primissime azioni in tal senso è l'installazione di diversi defibrillatori che hanno reso ora il comune uno tra i più cardioprotetti di tutta la regione. A farsi ambasciatrice di queste buone pratiche è anche la locale squadra di calcio che reca sulle magliette la frase Noi siamo cardioprotetti e la porta in giro nei campi e nei tornei a cui partecipa, un bel esempio da emulare su tutto il territorio.